avevo dato la coltellata senza volerlo e quasi per sbaglio gino l'aveva evitata ed io pieno di paura ero scappato a casa dove poi vennero ad arrestarmi ma quando tornai fuori dopo qualche mese mi accorsi che tutti mi guardavano con ammirazione specie al bar di via san francesco a ripa dove si riuniscono i fiumaroli prima nessuno sapeva chi fossi adesso addirittura mi adulavano e tutti quei ragazzotti facevano a gara dimostrarsi amici offrendomi da bere facendomi raccontare come era andata e informandosi se ce l'avevo ancora con gino oppure se l'avevo perdonato andò a finire che mio malgrado mi gonfiai e mi persuasi di essere davvero un prepotente di quelli che non guardano in faccia a nessuno e per ogni non nulla menano senza riguardi e così quando quei soliti amici del bar insinuarono che durante la mia assenza se era fino se l'era fatta con sestidia vedendo che mi guardavano come dire ora cosa farà ancora prima che ci avessi pensato mi uscì di bocca e si sa quando il gatto non c'è i topi ballano ma adesso l'aggiusto io e come ebbi detto queste parole mi sembrò di aver messo la firma sotto un contratto che non avrei potuto eseguire ho detto un contratto che non avrei potuto eseguire e mi spiego in primo luogo se era fino era grande e grosso il doppio di me è vero che non lo facevano coraggioso per via che era moscio come un sacco di cenci coi fianchi larghi le spalle cascanti e una faccia senza un pelo di barba liscia e sformata ma insomma era un omacione mi faceva paura e in secondo luogo per sestidia non avevo questa gran passione e certo non tanta da andare in galera per lei le volevo bene questo sì ma fino a un certo punto e in sostanza avrei potuto anche lasciarla a serafino puntiglio di vanità dunque perché sentivo che ormai tutti mi consideravano un prepotente e non avevo il coraggio di deluderli e infatti dopo quell'adesso l'aggiusto io mi furono tutti addosso con i consigli gli aiuti e in breve si fece un piano bisogna sapere che serafino doveva sposare da tanto tempo una stilatrice che si chiamava giulia si trattava dunque di andare serafino giulia sestilia io e gli altri del bar a bere in un'osteria fuori porta san pancrazio per festeggiare il mio ritorno in libertà lì a un certo momento avrei affrontato serafino con il mio famoso coltello e gli avrei intimato di lasciar sestilia e disposare al più presto giulia quest'idea mi sa che fosse del fratello di giulia che era uno di quelli che si scaldava di più ma tutti chi più chi meno ce l'avevano con serafino perché dicevano che non era un vero amico a me se l'avessero detto sei mesi prima gli avrei risposto ma siete mati ma come posso mettere paura a serafino e poi perché per sestilia ma ormai era fatta ero un prepotente ero innamorato di sestilia e non potevo tirarmi indietro e così mi gonfiai ergendo il petto e dissi lasciate fare a me ma oh sta attento devi soltanto mettergli paura mica ammazzarlo ripetei lasciate fare a me la sera era fissata salimmo tutti a porta san pancrazio all'osteria chi c'era c'erano serafino giulia sestilia maurizio detto zio federico il fratello di giulia i due fratelli pompei terribili che portava la fisarmonica ed io tutti conoscevano il piano quelli del bar ed io perché l'avevamo combinato insieme giulia e sestilia perché erano state avvertite e anche serafino doveva sospettare qualcosa perché era venuto malvolentieri e non apriva bocca sestilia ed io neppure ci guardavamo freddi e distanti invece giulia una ragazza esuberante che rideva sempre e quando rideva le si vedevano le gengive come a un cavallo piena di speranza si strofinava a serafino gli altri scherzavano e chiacchieravano con sforzo però perché c'era qualche cosa per l'aria e io poi avevo proprio paura e ogni tanto guardavo sestilia quasi sperando che da lei mi venisse tanta gelosia da prendere coraggio e non dico che non mi piacesse dritta come un fuso dai piedi al naso con quel modo di camminare da regine che ci hanno le trasteverine i boccoli neri in cascata lungo il viso gli occhi grandi e neri la bocca cattiva ma dal piacermi a finire in galera per lei ci correva quasi quasi avrei voluto gridare a serafino ma prenditela se ne hai voglia e non parliamo né più ma questo era il luigi vecchio che parlava quello di prima del fatto di gino il luigi nuovo doveva invece tirare le cortellate prendersi la rivincita giunti all'osteria che era l'imboccatura della via aurelia proprio di fronte alle mura sedemmo ad uno di quei tavoli sotto la pergola e ordinammo vino e ciambelle subito forse per effetto del vino quelli del bar diventarono di un'allegria strepitosa chiacchieravano bevevano si tiravano le ciambelle cantavano e quando terribili prese a suonare la fisarmonica siccome le due donne non volevano ballare si misero a ballare la samba tra di loro se non avessi avuto tanta paura vi dico che avrei riso anch'io bisognava vederli ballare tra di loro e quello che faceva la donna dimenava i fianchi con tutte le mossette le smorfie che fanno le donne e quello che faceva l'uomo acchiappava forte l'altro per la vita lo sollevava lo faceva girare e poi ricadere in terra e tutti ridevano che non ne potevano più i soli a non ridere eravamo io e serafino lui si era tolto la giubba ed era rimasto in canottiera bianca mostrando certe bracione marrone come di donna e io calcolavo dentro di me che un colpo solo di quelle braccia sarebbe bastato ad atterrarmi e mi venne a questo pensiero la malinconia e dissi piano a sestiglia ad irato con te poi parliamo strega che non sei altro lei alzò le spalle e non disse nulla intanto però il tempo passava e quelli del bar mi facevano segni perché attaccassi bravi come se fosse stato facile si trattava insomma di mettere a serafino una paura definitiva assoluta da non farle mai più rialzare il capo e sembra niente a dirlo così e chi va al cinema e vede gli attori scambiarsi pugni finti e spararsi revolverate che non fanno male a nessuno può anche pensare che far paura a qualcuno sia una cosa da nulla ma invece non è vero per metter paura a qualcuno bisogna dargli l'impressione che si vuole ammazzarlo sul serio e questo è molto difficile quando invece come era il caso mio non si vuole ammazzarlo ma soltanto mettergli paura per fortuna che c'era stata quella coltellata a gino l'avevo fatto una volta per sbaglio e si trattava adesso di farlo apposta guardavo intanto sestiglia e avrei voluto che facesse la civetta con serafino questo mi avrebbe scaldato il sangue ma invece se ne stava zitta e contegnosa in disparte come offesa giulia al contrario non faceva che strusciarsi a serafino e rideva ad ogni non nulla mostrando le gengive insomma un momento che la fisarmonica non suonava quasi senza pensarci forse perché prima ci avevo pensato tanto mi sporsi sul tavolo e dissi a serafino ma di un po che hai ti invitiamo a festeggiare il mio ritorno e non bevi non parli te ne stai lì moscio come se ti dispiacesse di non sapermi più sotto chiave e serafino rispose ma no luigi che c'entra ho un po di mal di stomaco ecco tutto e io oh sì che ti dispiace perché mentre non c'ero ronzavi intorno a sestiglia e il mio ritorno non ci voleva ecco perché ti dispiace avevo alzato la voce e dentro di me pensavo sono ancora a terra ma debbo alzarmi alzarmi come un arioplano che prende quota se non mi alzo casco tutti ora tacevano soddisfatti di vedermi affrontare serafino come ad uno spettacolo serafino come notai si era fatto pallido o meglio grigio su quel suo faccione liscio e senza barba e allora mi sporsi ancora di più attraverso il tavolo e gli presi in pugno l'orlo della canottiera sul petto torcendolo e dissi con forza tu hai da lasciarla sestiglia hai capito hai da lasciarla perché lei ed io ci vogliamo bene serafino guardò sestiglia quasi sperando che lei smentisse ma sestiglia da vera strega abbassò gli occhi con punta e giulia prese il braccio a serafino dicendogli vieni serafino andiamo via lei se ne approfittava cercando di tirare l'acqua al suo molino poverita serafino barbugliò non so che cosa e poi si alzò e disse me ne vado non voglio essere offeso e tutta contenta giulia si alzò anche lei dicendo vengo anch'io ma serafino lentimo tu rimani non ho bisogno di te quindi prese la giacca e si allontanò sotto la pergola tutti quei giovanotti subito mi guardarono per vedere che cosa avrei fatto e il fratello di giulia disse se ne va luigi che fai e io feci un gesto con la mano come dire calma e aspettai che serafino fosse uscito dall'osteria poi mi alzai e via di corsa dietro di lui lo raggiunsi sul viale delle mura aurelie camminava da solo in quella strada buia grande grosso proprio un omaccione e mi venne di nuovo paura ma ormai ero lanciato e lo raggiunsi e prendendolo per un braccio dissi trafelato aspetta ho da parlarti senti che il braccio era grosso ma moscio e come senza muscoli e lui pur protestando si lasciò attirare in una di quelle rientranze buie delle mura e pensavo oh mamma mia aiutami e sebbene avessi veramente paura con una mano lo sbattei contro il muro e con l'altra alzai coltello dicendo ora ti ammazzo serafino questo era il momento e se lui mi prendeva la mano mi disarmava subito perché avevo deciso di lasciarmi disarmare piuttosto che fare uno sproposito senti invece che lui mi scivolava giù quasi svenuto lungo il muro contro il quale l'avevo spinto e disse scioccamente mamma mia che erano le stesse parole che io poco prima avevo pensato di farmi coraggio e poi rimase lì a guardarmi con gli occhi sbarrati e capì che l'avevo spuntata abbassai la mano armata e dissi tu lo sai che ho fatto a gino sì lo sai che sarei capace di farlo anche a te ma sul serio sì e allora lascia stare sestiglia ma io manco la vedo disse lui riprendendo coraggio non basta dissi al più presto devi regolare la tua posizione con giulia hai capito e rialzai la mano e lui disse tutto tremante lo farò luigi ma lasciami andare io ripetei è inteso se non la sposi ti ammazzo non sarà oggi sarà domani ma ti ammazzo e lui disse la sposerò adesso chiamala gli comandai lui portò la mano alla bocca e chiamò giulia giulia e subito attraverso il viale giulia ci venne incontro correndo povera ragazza c'è qui serafino che vuol parlarti dissi voi andate pure io torno all'osteria li guardai che si allontanavano insieme poi tornai sotto la pergola ero fradicio di sudore quasi cascavo per terra proprio come serafino quando l'avevo minacciato col coltello ma quelli del tavolo mi accolsero con un applauso e viva viva il campione terribili riattaccò con la fisarmonica una samba quelli ricominciarono a fare i buffoni e se stilia mi disse piano balliamo luigi ballammo e ballando lei mi accostò la bocca all'orecchio e mi disse in un soffio ma che c'hai creduto che non ti volessi più bene e feci un giro più largo la portai in un angolo buio della pergola e lì la baciai e così rifacciamo pace e il giorno dopo pensavo che serafino avesse già dimenticato la paura ma come entrai nel bar vidi che mi guardava con timore e poi mi disse facciamo pace vuoi e mi offrì da bere e quindi prese a parlarmi di sé giulia e con molti giri di frase mi fece capire che avevano deciso di sposarsi io quasi non credevo alle mie orecchie serafino si sposava per paura di me e avrei voluto dirglielo ma piantala fatti coraggio ma non ti accorgi che siamo della stessa razza e invece ormai non potevo ero il forzuto quello che ci ha il coltello in saccoccia quello che mina e serafino ci credeva come gli altri si sposarono davvero e io fu invitato alla festa il fratello di giulia mi disse che era tutto merito mio ma poi toccò a me sposarmi avevo fatto tutto quel fracasso per sestiglia adesso dovevo dimostrarle che l'avevo fatto veramente per lei e non mi andava per niente di sposare sestiglia non fosse altro perché in mia assenza aveva fatto la civetta con serafino ma ormai non potevo più ritirarmi e quando ci sposammo naturalmente venne anche serafino insieme con giulia che era già incinta e serafino poveretto mi abbracciò dicendo evviva evviva luigi sì pensavo io evviva un corno ma il coltello in tasca da allora non lo porto più io